Alle ore 9 di questa mattina il consigliere regionale Dino Pepe ha incontrato gli sfollati della palazzina Ater di via Adamoli 48 a Teramo. Esasperati dai continui ritardi e dall'inverno oramai alle porte, gli sfollati hanno voluto incontrare lo stesso consigliere e il sindaco. Poi con l'arrivo della dottoressa Milba Partiti, RUP dell'intervento della palazzina in questione, hanno ricevuto la notizia più bella. Forse vediamo la luce in fondo al tunnel, poiché qui davvero abbiamo verificato una situazione drammatica, tragica. I cittadini di questa palazzina non hanno né la casa né tantomeno il contributo di autonoma sistemazione. Per questa ragione abbiamo convocato questa riunione di oggi insieme all'Ater e insieme al Comune per trovare una soluzione. L'Ater ci ha assicurato che in questa settimana probabilmente ci sarà la parola fine di questa triste vicenda affinché le 32 famiglie possano rientrare nelle loro case dopo 7 anni dal terremoto. Tanti cavilli burocratici, ovviamente un'altra pena da patire per i tanti occupanti. Fortunatamente però, come ha detto lei, l'Ater ha dato una risposta positiva e una scadenza, soprattutto ufficiale, che è quella di mercoledì prossimo. Sì, io ringrazio l'Ater, la dottoressa Partiti che è intervenuta a questa riunione informale di oggi, ci ha dato delle importanti notizie e ci auguriamo tutti che nei prossimi giorni le famiglie possano rientrare in questa palazzina anche perché da 7 anni che purtroppo è successo il terremoto, il 2016-2017, e quindi ci sono ancora mille terramani fuori casa. C'è tanto lavoro da fare e ci auguriamo tutti che possa migliorare la situazione, soprattutto dal punto di vista burocratico. Ancora qualche giorno quindi e le 32 famiglie potranno tornare all'interno dei propri appartamenti dopo 7 anni di angoscia attesa e tanta speranza.